come scaricare e installare così i driver per il monitor Dell ovviamente o andremo a scaricare dei driver oppure un'applicazione per configurare il nostro monitor quindi in questo caso vado direttamente sul sito Dell Technologies vado qua sopra l'ho lasciato in descrizione vai su supporto scendi fino a giro fino a trovare driver e download identifica il prodotto ovviamente io vado a mettere Dell e vado a mettere 24 pollici curve game monitor e questo è il mio monitor quindi tu puoi direttamente scrivere Dell i tuoi pollici e poi sicuramente riconoscerà il monitor che hai comprato su qualche sito come Amazon o altri siti quindi vado qua sopra vado a cercare così il supporto per il mio monitor vado direttamente a mettere Windows 11 tipo di download tutti tutti scendo fino a giù fino a trovare questi due qua scarica opzioni selezionate facciamo consenti scarichiamo più file una volta scaricato e installato vado direttamente su download prendo questi due li trascino sul desktop ed eccoli qua ora inizio primo prima a scaricare e installare l'applicazione installo l'applicazione Dell faccio avanti accetto le condizioni faccio avanti questa funzione porta di uscita con certifrimento dei conditi tra pc questo allora non mi interessa faccio installo avvia Dell display manager ed eccolo qua Dell display manager luminosità origine ingresso colore display risoluzioni 100% consigliato gioco attiva disattiva stabilizzatore non mettiamo nessuno personalizza ora vado a installare così driver adesso adesso su start vedere se ci sono monitor per una driver cercheremo nel computer ed eccolo qua ci avanti scarico installo il driver ora posso configurare così il mio monitor attraverso il programma Dell quindi se questo video ti è stato utilissimo su come scaricare e installare i driver per il tuo monitor Dell iscriviti lascia like per altri problemi che puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao